Buongiorno e benvenuti al Focus Tg, tutte le notizie dal Veneto, esattamente quando succedono perché ormai siamo sul pezzo tutti i giorni, vi informiamo, vi raccontiamo quello che succede in Veneto sia con l'emergenza coronavirus che con tutte le altre notizie, come sempre oggi avremo i nostri collegamenti dal territorio per capire cosa sta succedendo a Vicenza, quali sono le ultime notizie da Padova, temi che poi tratteremo in modo più approfondito nella nostra fascia di informazione serale, avremo anche un collegamento con il nostro direttore Luigi Baccialli che ci parlerà, ci darà una breve anticipazione dello speciale Focus che andrà in onda sabato sera, ci piacerebbe dire celebrare ma in realtà è un modo di dire sbagliato perché stiamo parlando di mille giorni di autonomia negata al Veneto, cadrà domani il millesimo giorno da quel famoso referendum e quindi saremo poi in collegamento anche con il direttore per capire che cosa ci dirà, di cosa ci parlerà, chi avrà come ospiti, si parla di un'intervista in esclusiva con il governatore Luca Zaia. Prima di andare a vedere tutto il resto, noi diamo un'occhiata ai dati di questa mattina del bollettino dell'azienda Zero della Regione Veneto, vediamo che ci sono più 21 casi sull'ultima rilevazione che era quella di ieri sera, più 12 casi a Padova, più 4 a Verona, sappiamo che ieri c'erano stati 57 casi complessivi in più, quindi una situazione che va assolutamente tenuta d'occhio, poi avremo nei servizi di approfondimento tutto quello che è successo, poi rivediamo la tabella in modo più approfondito, torniamo in studio e andiamo subito immediatamente a sentire le parole di Zaia su quello che sta succedendo proprio in queste ore. In Veneto le regole di salute pubblica sono state aggirate da persone positive al coronavirus, parole durissime che arrivano dal Presidente della Regione Luca Zaia, il quale sottolinea come il focolaio più grande registrato nella nostra Regione dalla fine del lockdown sia costituito da cittadini stranieri, con decine di positivi e numeri che possono ancora crescere. A questa situazione già preoccupante si aggiungono poi altre gravi irregolarità, con positivi asintomatici che si rendono irreperibili ai controlli e Zaia avverte, vanno assolutamente fermati. Abbiamo avuto nel luogo di ospitalità della Croce Rossa, nella sede della Croce Rossa, abbiamo 43 persone che sono positive. Venire a sapere dal prefetto e dai miei sanitari che molti di questi si sono dati a gambe e non sappiamo dove sono, allora se da un lato il vero problema è quello di garantire le cure a chi è sintomatico positivo, dall'altro c'è l'obbligo di fare in modo che chi è asintomatico e senza sintomi ma è positivo debba restare ovviamente in isolamento fiduciario, in isolamento in quarantena, chiamatelo come volete. Il Presidente lo ribadisce, è una questione di civiltà. Quando l'ho detto io qualche settimana fa sembrava fosse un'eresia, adesso vedo che tutti i cittadini invocano regole severe e penso che non sia una questione di colore di pelle, di credo religioso, di scelte sentimentali o di altre robe, ma sia una questione di civiltà prima di tutto che è in salute dei cittadini, di chi è positivo, di chi è ammalato e di tutta la comunità che magari ignara rischia di essere contagiata. Il Presidente chiede la reintroduzione del penale per tutti i casi in cui un positivo o una persona in isolamento fuggano dalla quarantena. Andiamo per gradi, allora il positivo oggi per legge nazionale se esce dalla quarantena in autonomia, sapendo di essere positivo, ha il fermo, all'arresto, al carcere fino a se non ricordo male a 18 mesi o 13 mesi e ha una multa fino a 5.000 euro. L'isolato invece non positivo ma che è stato a contatto stretto di positivi che deve farsi la quarantena, se esce di casa solo una multa di 1.000 euro. Zaia ha sentito telefonicamente il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che gli ha comunicato i recenti provvedimenti del Governo per contenere il contagio. Si vogliono anche provvedimenti seri rispetto al tema delle ordinanze, ovvero delle quarantene dei positivi e dei contatti stretti di positivi, ma anche mi lascia aggiungere, avere ben chiaro cosa stia accadendo a livello diagnostico in quella di Lampedusa quando gli immigrati arrivano, premesso che devono stare a casa loro, ma quelli che sono arrivati, i richiedenti asilo che arrivano devono comunque avere il test. Il tema più importante di queste ultime ore sembra essere la situazione che si è venuta a creare nel centro migranti della Croce Rossa a Jesolo, che rappresenta il focolaio più voluminoso della giornata di ieri. Vediamo dai dati che ci sono solo più due casi nel Veneziano, quindi vuol dire che o non sono arrivati gli esiti dei tamponi fatti eventualmente ad altre persone che possono fare riferimento a quella situazione, a quel centro, oppure non ci sono altre positività. Le positività di ieri riguardavano almeno 30 persone, si parla di 43 positivi, in cui sarebbe coinvolto anche un operatore, quindi noi andiamo a vedere su questo argomento il servizio che è stato preparato dalla nostra redazione veneziana. Non si placa la paura da contagio in Veneto, un nuovo focolaio con 43 persone infette esploso nella sede della Croce Rossa di Jesolo in via Levantina. Si tratta di 42 ospiti di nazionalità africana e un operatore della struttura. I positivi sono stati trasferiti in giornata grazie all'ausilio di Pullman arrivati da Milano in due strutture protette extracomunali con sede in Veneto come disposto dal prefetto. Queste persone, noi stiamo adesso in accordo con il Comune di Jesolo, la Croce Rossa stessa, la Prefettura, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, le stiamo portando via da Jesolo e andranno in altre località dove verranno seguite, guarite, insomma, da un punto di vista sanitario, strutture protette. Il focolaio è stato scoperto per un caso fortuito, un migrante, ospite della struttura che doveva essere operato in ortopedia a San Dona di Piave, come da protocollo è stato sottoposto a tampone che ha evidenziato il contagio. A quel punto sono stati eseguiti altri 142 tamponi nella serata di ieri su tutte le persone che gravitano a vario titolo nella sede della Croce Rossa. Tamponi che hanno rilevato la positività delle 43, tutte asintomatiche, provenienti dall'Africa subsahariana che per integrarsi nel territorio svolgevano attività lavorativa stagionale. Pertanto sono stati allertati anche i rispettivi datori di lavoro per evitare l'esplosione del contagio e per monitorare la situazione in maniera preventiva. Ora la tensione cade sugli 85 ospiti risultati negativi che resteranno in isolamento nella sede Iesolana in attesa del secondo e del terzo tampone trascorsi 7 e 14 giorni. Ad occuparsi della vigilanza e del rispetto dei protocolli sanitari e dell'isolamento sarà il personale della Croce Rossa con l'incremento di 11 unità inviate dalla sede nazionale e il sindaco Zoggia ha subito firmato un'ordinanza e ha avuto un confronto con il questore per assicurare che le persone sottoposte a isolamento non escano dalla struttura e ci sia un presidio costante da parte degli uomini delle forze dell'ordine. Ha fatto subito un'ordinanza urgente, contegibile l'urgenza per evitare che le persone che sono negative, perché le positive vengono portate via, che le negative vadano in giro per il territorio fin tanto che non sono passati i 14 giorni di quarantena. Andiamo a rivedere la tabella di questa mattina, la vediamo in modo un po' più approfondito almeno nella sua prima parte. Dicevamo più 21 è il numero dei casi positivi riscontrati rispetto all'ultima rilevazione, quella di ieri sera, 1617 persone in isolamento domiciliare, anche questo è un dato che è cresciuto rispetto alle ultime ore, in modo naturalmente non allarmante, però è cresciuto. Sono 19.525 i casi dall'inizio dell'emergenza, sono 502 le persone attualmente positive, anche questo è un numero che fluttua e che ultimamente sembra essere cresciuto un po' troppo. Negativizzati 16.976, fortunatamente non cambia il numero delle persone che hanno perso la vita, siamo a 2047, sono moltissime comunque, ma il fatto che non ce ne siano state nelle ultime ore è un segnale che ci fa capire almeno che questi ceppi, questi nuovi focolai non hanno colpito persone particolarmente fragili o in difficoltà dal punto di vista sanitario, quindi non ci sono stati altri morti. Andiamo nella seconda parte della tabella che è altrettanto importante perché ci fa vedere la situazione di quello che è l'assetto ospedaliero, Veneto, vediamo, sono sempre nove le terapie intensive impegnate, anche queste non cambiano da qualche giorno ed è un buon segno. Sette occupate da persone negativizzate e due invece che sono impegnate da persone risultate positive al coronavirus. 130 i ricoverati complessivi, sono tre in più rispetto all'ultima rilevazione, di cui 33 positivi e 97 che invece si sono negativizzati. Andiamo nell'ultima parte della tabella che ci parla degli ospedali di comunità e vediamo che in questi ospedali e le strutture più locali sono morte 42 persone, ci sono 323 dimessi, non ci sono cambiamenti nel numero dei positivi e nel numero dei decessi e abbiamo solo 17 ricoverati. Torniamo in studio, questa era la situazione, poi andiamo magari a rivedere qualche dato in più riguardante alcune aree nello specifico della situazione dell'emergenza coronavirus e ora andiamo invece a vedere una notizia di oggi che riguarda una situazione che si è venuta a creare a Loreggia dove un animatore, ci dicono i nostri colleghi dei centri estivi, aveva la febbre alta, il tampone però ha risultato negativo, c'è stato comunque qualche ora di timore. Ecco il servizio. Febbre alta, paura per un animatore di 14 anni, il ragazzo era impegnato nei giorni scorsi nei centri estivi organizzati dal comune di Loreggia all'interno della scuola primaria, tutto bloccato, bambini a casa fino a quando l'esito del tampone non fa tornare il sereno, il ragazzo è negativo. Tuttavia non sono mancate le polemiche, l'animatore 14 anni è stato sottoposto a tampone in pediatria ma il risultato è arrivato dopo 5 lunghi giorni, lasciando tante famiglie in agitazione per un possibile nuovo focolaio. Il sindaco di Loreggia Fabio Buia ha sospeso le attività dei centri estivi e ha polemizzato con Regione e Vertici USG per la lunga attesa del risultato. Appurata la negatività del 14enne, il comune ha avvisato tutte le famiglie e i centri estivi riprenderanno fino al prossimo 31 luglio. Questa era la situazione a Loreggia, noi fra poco avremo in collegamento il nostro direttore Luigi Baccialli che ci darà un'anticipazione, come dicevamo poc'anzi, sulla puntata speciale di Focus che riguarderà l'autonomia, ma sarebbe meglio dire l'autonomia negata, vedete sul vostro teleschermo nella parte alta c'è un contatore che ci dice che sono passati 999 giorni in attesa del governo, ovvero da quando c'è stato il celebre referendum sull'autonomia in Veneto sono passati oggi 999 giorni. Domani saranno mille, ci sarebbe piaciuto in occasione del millesimo giorno avere delle notizie diverse o magari di non dover arrivare al millesimo giorno di attesa, invece ci arriveremo domani perché dubitiamo che possa succedere qualcosa di eclatante nelle prossime ore da questo punto di vista. Quindi domani sarà il millesimo giorno da quando il Veneto tramite il referendum ha chiesto l'autonomia, un'autonomia più volte promessa e non se n'è mai fatto niente e approfondiremo questo tema molto importante con il nostro direttore Luigi Baccialli dopo la pubblicità perché ora noi facciamo una breve pausa ma state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus Tg, le notizie dal Veneto partendo dal coronavirus per arrivare all'autonomia. Sappiamo che c'è il nostro direttore Luigi Baccialli che ci sta aspettando, che sta aspettando il nostro collegamento via Skype, dovremo averlo in onda fra pochissimo perché domani, eccolo qui, si sta preparando gli ultimi dettagli, domani cadranno i mille giorni da quella fatidica data, da quel referendum che ha sancito ancora una volta la volontà chiara e precisa dei Veneti, voi vedete sulla parte più alta del vostro teleschermo il nostro contatore, sono 999 giorni, oggi domani saranno mille, domani sarebbe stato bello celebrare, festeggiare in un altro modo, invece ci sarà altro di cui discutere, è vero direttore? Ciao Zarinando, grazie, grazie. Sì è vero, noi tra l'altro domani sera a Focus avremo una puntata speciale con una lunga intervista tutta sull'autonomia al Presidente Luca Zaia e poi dopo l'intervista un dibattito in studio con il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, con Fabrizio Comencini, col Professor Mario Bertolissi, davvero che è stato il cardine di tutta questa storia dell'autonomia che ancora non c'è, che si è tentato davvero di portare a casa e poi ci sarà anche Simonetta Rubinato, quindi un dibattito su questa fase, questo lungo calvario, mille giorni per tentare di arrivare all'obiettivo. Direttore, il tuo pensiero su questa situazione che si è venuta a creare, la tua opinione di giornalista, di persona che ormai da anni parla con tutti i principali attori di questa vicenda che è partita come una cosa importantissima e che adesso rischia di spociare veramente in un dramma se non verrà concessa, se il governo, se Roma non farà qualcosa per rispondere alle istanze di Veneti. Ma guarda, il referendum del 22 ottobre del 2017 è stata una data storica con 2 milioni e 400 mila veneti che sono andati a votare, il 99% ha votato sì, quindi un consenso enorme, proprio una spinta che sembrava non potesse essere in qualche modo elusa e invece è successo che si è fatto un grande lavoro col ministro Erika Stefani, il professor Bertolissi, la consulta, tutti i giuristi che si sono impegnati e si è arrivati ad una preintesa con il viceministro Bressa durante il governo Gentiloni e poi è iniziata la fase direi sconcertante del Conte 1 dove c'era la Lega, al governo c'erano Lega e 5 Stelle e i 5 Stelle hanno continuato a mettere i bastoni tra le ruote e ricordiamo la frustrazione del ministro Stefani quando andava in questi consigli ministri e ne usciva mortificata. Io penso che davvero si stia perdendo, si sia perso un'occasione per far diventare questo paese un paese serio e maturo, perché come dice sempre il governatore, l'autonomia non è una sottrazione di potere ma è responsabilizzazione, cioè ciascuno diventa responsabile delle proprie azioni con le proprie risorse, non deve più stare al guinzaglio dello Stato centrale che decide quando è come darti poche briciole dei 15 miliardi di residuo fiscale che il Veneto lascia nelle casse dello Stato ogni anno, è abbastanza vergognoso che finora ci siano stati solo silenzi assordanti, cavalli di frisia, pretesti, scuse, soprattutto durante quella fase del conte 1, ma anche durante questa fase del conte 2. Adesso si è arrivati ad una legge quadro che serve solo a complicare le cose, parole di circostanza, sono tutti autonomisti, tutti favorevoli, poi quando si tratta di arrivare al sodo, però è una battaglia come dice il Presidente che andrà avanti, ormai è ineludibile, il solco è stato tracciato e non si potrà che andare avanti e se non sarà questo governo sarà un altro governo a rendere questo Paese un Paese civile, responsabile e concreto. Direttore sappiamo che tu sei pieno di impegni, che stai preparando anche la puntata di questa sera, di domani, quindi fra poco ti lasciamo lavorare, ma volevo capire la tua opinione sul versante sanitario, ovvero l'emergenza coronavirus, ha dimostrato che il Veneto ha le carte in regola per essere autonomo anche in questo delicato settore, è stato fatto il meglio che si poteva fare, dimostrando quindi al governo, allo Stato, alla nazione che il Veneto merita l'autonomia? Certamente, guarda, poi è stato il benchmark, la sanità del Veneto, è stato un esempio proprio di efficienza, di serietà, di lungimiranza, è proprio quello che l'autonomia consente di fare, cioè il Veneto ha dimostrato di saper fare meglio di molti altri o meglio di tutti gli altri da solo, visti i risultati, perché proprio questa vicenda sanitaria dimostra che se non ci sono lacci, laccioli, se qui si lascia libero il Veneto di lavorare e di operare, i risultati arrivano, quindi nulla di più importante di questa fase Covid rispetto a quanto il Veneto meriti l'autonomia e maggiori e ovviamente anche giusti margini di manovra in più. Allora, ringraziamo il nostro direttore Luigi Baciali, naturalmente vi invitiamo questa sera alla puntata di Focus, ma domani soprattutto alla puntata speciale sull'autonomia, mille giorni di autonomia avremo l'intervista con Luca Zaia in esclusiva, molti ospiti e naturalmente un tema che si spera possa arrivare a una svolta in tempi molto rapidi. Grazie direttore, grazie del tuo punto e anche... Grazie mille, torniamo in studio, noi andiamo avanti con il nostro Focus, continuiamo a parlare di... continuiamo a parlare degli effetti del coronavirus, andiamo a sentire i bassanesi in questo caso, cosa pensano di questa recrudescenza, di questo aumento di casi nel Veneto, se hanno paura, se non hanno paura, se è il caso di vivere ancora nel terrore come è successo all'inizio dell'emergenza oppure se è arrivato il momento di mettere a parte le mascherine, nella loro opinione naturalmente. Ecco il servizio. Ritengo che non si possa chiudere tutto di nuovo perché sennò l'economia scende, però ritengo che bisogna stare ancora molto attenti perché adesso l'estate ho visto anche a Ieso e lo sono andata, tutta la gente senza mascherine, le spiagge, tutti sono attaccati e purtroppo la gente non sta molto attenta. Non abbassare la guardia, portare le mascherine come hanno detto e stare attenti. Mi sono preoccupata perché non ne posso più di questa situazione qua, si sperava andare molto in meglio, invece è quello che ho sentito, non c'è la risoluzione, speriamo bene. Non mi fanno paura, ripeto, vedo che la gente le mascherine le utilizza, ancora abbiamo la mucchina, la doperiamo sempre. E poi sa che cosa, dovremmo stare attenti a chi arriva da fuori. Penso che sia così un po' dappertutto, visto l'andazzo in giro, è così. Quindi che ci siano delle impennate verso il basso e poi ancora riprenda? Sì, direi che sarà proprio così. Secondo me bisogna stare un attimino più attenti perché abbiamo allentato un po' il tiro. Secondo me un po' più, tirare un po' i remi ancora un po' in barca sarebbe la cosa migliore. Poi spero spassi questo momento. Tenere alta la guardia penso, semplicemente. Ma le fa paura un po' questo dato? Non particolarmente, se lo tengo sotto controllo. Mi pare che il nostro governatore si deve fare in maniera positiva, quindi chi di dovere prenderà sicuramente le debite e le decisioni. Le regioni sono state aperte, quindi c'è più affluenza nella nostra regione e più possibilità che le persone vengano contagiate. Senza obra di dubbio sapevamo comunque che andavamo incontro al rischio, quindi paura no, paura no. Noi dobbiamo salvaguardarci, non possiamo smettere un'altra volta le nostre attività, sicuramente. Un po' di timore e lo incutono, c'è poco da fare. Ci sono cose che non funzionano più, perché tutti hanno voluto fare fretta e furia e adesso speriamo bene, ma dipende da noi però. Dipende solo da noi in questo momento. Questa frase è sintomatica di quello che i cittadini sentono e che è anche giusto sentire. Dipende tutto da noi, ce l'hanno detto gli amministratori, i politici, ce l'hanno detto la sanità, ce l'hanno detto un po' tutti. Dipende tutto da noi e da quello che faremo in questa fase molto molto delicata. A proposito di questo tema, vi leggiamo un lancio di agenzia che parla di Jesolo. Abbiamo appena visto il servizio da Jesolo con questo focolaio anche importante all'interno di un centro per migranti gestito dalla Croce Rossa. Contagi Jesolo, albergatori, indagare sul centro, sistema funziona, vanno stigmatizzate negligenze. Chiediamo che, come è avvenuto nei mesi scorsi per i casi delle RSA del Nord Italia, vengano fatti tutti i necessari accertamenti, anche conformare le indagini se necessario e nel caso emergano responsabilità specifiche, chi è sbagliato. Paghi, lo affermano i presidenti dell'Associazione Albergatori e Commercio di Jesolo, Alberto Maschio e Angelo Falloppa. A proposito dei 43 contagi, di cui 42 immigrati, all'interno della struttura della Croce Rossa. Quindi questo è quello che chiedono gli albergatori jesolani che rischiano da questa situazione di avere anche un danno d'immagine, perché è naturale che con quello che sta succedendo qualcuno possa dire ma è rischioso, non è rischioso muoversi, andare a Jesolo in questi giorni. Quindi naturalmente le notizie che arrivano dalla località balneare ci dicono che è stato circoscritto il focolaio, che la gestione è stata oculata e immediata. Questa era la risposta degli albergatori e pare comunque che al momento sia tutto a posto. Noi andiamo avanti con la nostra informazione, parliamo ancora sempre di dati del coronavirus e andiamo a vedere quelle che sono le informazioni dall'Ulss 6 di Padova. Il virus non è completamente scomparso e che quindi i livelli di attenzione devono essere molto elevati da parte delle istituzioni ma soprattutto da parte dei cittadini. Da circa 10 giorni l'Ulss 6 Eugania rileva un costante aumento di persone positive al covid nel Padovano. La tensione è alta. In questo momento 55 casi positivi e abbiamo circa 200 persone che sono in isolamento in quanto contatti e altre 200 ma questi non sono positivi solo in fase precauzionale perché provenienti dall'estero. C'è poi la vicenda della commemorazione funebre che si è svolta sabato nella comunità del Camerun. I presenti, circa 200, non sono stati abbastanza distanziati. E così attualmente ci sono 12 positivi. L'Ulss ha lanciato un appello a comuni, provincia, prefettura e parrocchia per rintracciare tutti i presenti e fare il tampone, allargando poi ad altre persone in contatto con loro. Fatevi avanti perché non è come in un matrimonio o in una celebrazione dove abbiamo un elenco. In questo caso noi sappiamo che sono circa 200 persone che erano presenti. Devo dire che tra di loro si sono già passati il messaggio perché siamo già a circa un centinaio di tamponi. Confermato infine l'episodio dei tre cittadini africani, due nigeriani e unganese tra i 25 e i 40 anni che positivi al tampone hanno comunque rifiutato il ricovero. Questo è un atteggiamento ovviamente molto rischioso perché denota non solo l'esposizione al rischio, ma è anche un problema proprio di comprensione di quella che è la situazione perché qui si tratta veramente di tutelare la comunità e soprattutto anche se stessi. Usciamo un attimo dal tema coronavirus. Andiamo a vedere una notizia di cronaca che riguarda un sisma, un terremoto avvenuto questa notte. Prego la regia di far vedere quello che è successo. Vediamo, questa è la pagina ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ci fa vedere che a pochissima distanza dal confine sloveno, quindi vicino ai Friuli, ci sono stati due piccoli eventi di cui uno di magnitudo 3.8 è stato sentito, in molte zone dell'Alto Veneto ci dicono comunque che non ci siano stati danni di alcun genere, un po' di paura in alcune aree, soprattutto vicino al confine, ma al momento non risultano danni. Insomma, zona che si conosce essere di natura anche sismica, quella in cui si è verificata, però all'inizio era stato giudicato un 4.3 di magnitudo, poi è stata calata un po' la valutazione, ma per il momento, ripetiamo, non si segnalano danni, qualcuno di sicuro è stato buttato giù dal letto perché è venuto alle 4.50, un po' di paura, ma per il momento non arrivano, ripetiamo, informazioni né di danni né a cose e a persone. Ora noi facciamo una breve pausa, state con noi perché torniamo fra pochissimo con tutte le informazioni dal Veneto. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo a Focus Tg, siamo qui per raccontarvi le notizie del Veneto, abbiamo parlato di coronavirus, abbiamo parlato di autonomia con il nostro direttore Luigi Bacciali, perché vi ricordiamo che domani sera andrà in onda una puntata speciale di Focus, proprio per i mille giorni dalla data in cui il Veneto con il referendum ha sancito la volontà di avere l'autonomia, autonomia che non è mai stata concessa, autonomia negata, ne parlerà il direttore con il presidente regione Luca Zaia con una lunga intervista esclusiva, con molti ospiti, il professor Bertolissi, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, insomma una puntata davvero speciale domani sera di Focus per approfondire i temi dell'autonomia a mille giorni dal referendum, noi abbiamo sentito anche quello che è successo a Venezia, siamo stati a Jesolo per vedere la situazione del centro migranti e adesso ci stiamo per collegare con Padova, con la nostra Valentina Visentin che fra pochi istanti sarà in collegamento Skype qui con noi per aggiornarci sulle ultime novità in arrivo da Padova, sapete che noi ogni giorno andiamo a sentire i nostri giornalisti sul territorio proprio per avere le notizie pochi minuti dopo che sono arrivate nelle redazioni, quindi in questo caso abbiamo Valentina Visentini in collegamento da Padova, Valentina buongiorno e aggiornaci, cos'è successo? Sappiamo che c'è stata un'importante conferenza stampa in quest'ora. Prima di aggiornarvi un attimo sulla conferenza stampa in quest'ora ho sentito che stavi facendo riferimento alla situazione dei migranti di Jesolo, due parole su quello che è il nuovo focolaio qui a Padova, ovvero quello camerunense legato ad una cerimonia funebre che si è svolta in un parco pubblico il 4 luglio scorso, ieri l'USL ci ha fatto sapere che erano già stati rintracciati 100 dei 200 partecipanti, eseguiti i tamponi e sono stati appunto 12 già le positività riscontrate a seguito proprio di questo evento. Così come sono 12 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore nella provincia di Padova, in questi minuti è in corso un aggiornamento da parte dell'USL 6 per capire di che pocolai stiamo parlando, quindi ulteriori dettagli poi verranno fornite nelle nostre edizioni serali, questa quindi è la situazione per quanto riguarda il numero dei contagi per la città di Padova e provincia. E poi parliamo appunto di una importante operazione delle forze dell'ordine perché non è solo polizia ma anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che ieri sera hanno blindato e cinturato un'area ex funghi all'Arcella vicino a via Bernina, un'area dove sono dislocati numerosi locali etnici, circoli privati che sono all'interno di quest'area, spesso monitorata proprio per le numerose irregolarità che ci sono all'interno. Ebbene ieri un'operazione congiunta che ha visto insieme tutte le forze dell'ordine, hanno blindato l'area, controllato numerosi locali, sono stati identificati e trovati all'interno 60 cittadini nigeriani che sono stati tutti portati in questura, alcuni sono destinatari anche di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, sono state sequestrate della droga, marijuana in particolare che è stata trovata all'interno di un circolo e in un altro circolo invece che doveva essere chiuso per disinfestazione sono state trovate all'interno delle persone. Ma la cosa che ha allarmato maggiormente gli agenti di polizia e i carabinieri è stato il fatto che all'interno di uno dei locali che dovrebbe essere appunto un circolo, quindi una discoteca, un locale di somministrazione bevande, è stato ritrovato un vero e proprio alloggio, quindi segno che all'interno di questi circoli ci sono anche delle occupazioni abusive, quindi degli alloggi abusivi per persone irregolari sul territorio italiano. Un'operazione importante anche dal punto di vista dell'igiene perché sapete molti focolai che ci sono in questi giorni a Padova sono proprio legati a giovani stranieri che appunto spesso in tre casi addirittura hanno anche rifiutato il ricovero in ospedale e quindi dal punto di vista dell'igiene questi 60 stranieri sono stati anche controllati. Valentina, prima di lasciarti andare, sappiamo che la nostra redazione che state seguendo da vicino la vicenda del cosiddetto basso isonzo, ci sono novità da quel versante? Sì, perché c'è stata l'assemblea dei cittadini coordinata dalla consulta di quartiere, si va verso l'ipotesi del cosiddetto crowfunding, ovvero si mettono insieme, i cittadini vogliono mettersi insieme per un acquisto di gruppo dell'area, ognuno fornendo una quota è intenzionato ad acquistare quest'area che attraverso un vecchio sistema di perequazione urbanistica aspetterebbe all'ente IRA in caso di riposo per anziani, è una procedura urbanistica che si era svolta nel 2009, adesso per non perdere il diritto a costruire l'IRA intende avviare delle opere di urbanizzazione primaria, ma questo avverrebbe all'interno di un'area che nel frattempo è diventata un parco agricolo, un polmone verde della città che voleva essere proprio addibito ad agricoltura biologica e che i cittadini del quartiere intendono salvare, una delle strade percorribili affrontata anche in questa assemblea con esponenti dell'amministrazione comunale, proprio quella dell'acquisto di gruppo da parte dei residenti di quest'area. Valentina, l'ultima cosa prima di lasciarti, ci sono indiscrezioni su un po' di maretta legata al Pride, ti risulta che ci sia qualche attrito con Padova su quello che potrebbe essere una gestione degli afflussi del numero di persone o degli assembramenti durante questa manifestazione? Sì, in questi giorni c'è un po' di polemica tra il presidente dell'Associazione Commercianti del Centro, Massimiliano Pellizzari, che ha denunciato attraverso alcune fotografie, assembramenti e persone che si sono sentite male all'interno della manifestazione che si sta svolgendo in questi giorni in Fiera. Pellizzari soprattutto dice, pretendiamo gli stessi controlli che ci sono per gli esercenti locali del centro storico, anche per questi eventi così imponenti che richiamano grandi afflussi di persone. Da parte loro il Pride hanno rivendicato i controlli effettuati all'ingresso e hanno specificato che la foto in questione, quella in cui si vede una ragazza svenuta all'esterno della Fiera, è una foto che risale alla settimana scorsa e quindi non alla giornata di giovedì. Come invece diceva Pellizzari, in queste ore dovrebbe esserci un incontro, vediamo di copire se ci sono delle novità anche su questo versante, su questa polemica che in questo periodo sta animando la città, ma preoccupata per questo incremento di contagi che l'abbiamo visto nelle ultime settimane, ha visto Padova tra le città più colpite come numero di contagi da Covid. Allora Valentina, grazie per queste informazioni, poi naturalmente questa sera anche nel Tg di TNE tutte le informazioni, ti lasciamo alle tue incombenze, al tuo lavoro, se ci saranno novità non esitate a chiamarci da Padova, noi siamo in diretta qui con il Focus Tg, grazie a Valentina Visentin. Torniamo in studio, noi andiamo avanti con la nostra informazione, avete sentito Padova è sempre una città che offre tantissimi spunti sia di cronaca che di politica, anche riguardanti la società civile perché succedono molte cose, la nostra redazione è sempre puntualmente sulla notizia con tutto quello che accade a Padova, avete avuto alcune anticipazioni molto molto importanti, adesso prima di andare a Vicenza perché fra pochissimo saremo collegati anche con la nostra redazione berica per tutte le informazioni da Vicenza e vi diamo una notizia che riguarda, che non riguarda il Veneto in questo caso, che riguarda la Lombardia, però prima di andare a vedere questa notizia sulla Lombardia che ha fatto un salto indietro di 20 anni addirittura secondo la CNA, noi abbiamo già collegata la nostra Gabriella Basso dal centro di Vicenza, siamo in piazza, la vediamo accompagnata anche da Cristian Rocche, sicuramente la pattuglia possiamo dire così è fuori per tirar su, come si dice in gergo, le notizie più importanti da Vicenza, Gabriella dacci qualche anticipazione su quello che sta succedendo ora in città. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori direttamente, appunto come dicevi tu siamo qui in piazza dei signori, potete vedere alle mie spalle riconoscibilissima la basilica palladiana qui dietro di me, ovviamente mascherine dotate perché parliamo sempre di sicurezza, sono confermate, sono stazionari le condizioni dell'imprenditore di Sossano con l'azienda poiana maggiore, il paziente zero del cosiddetto focolaio della bassa padovana, stabile in terapia intensiva, meglio che diamo sempre un aggiornamento anche su questo aspetto, non si sa ancora quando potrà essere dimesso, però insomma rimane stabile e rimane sempre con la mascherina di ossigeno, parleremo nelle edizioni nostre del telegiornale anche di tasse, perché abbiamo appena sentito i commercianti, questo è un mese importante, il mese di luglio perché arrivano le tasse da pagare, è l'unico, ci sono tutti i ratei che sono stati spostati in avanti che adesso arrivano e devono essere pagati, la ripresa stenta a partire, se non addirittura non decolla troppo, questo ci dicono i commercianti qui a Vicenza, anche i locali, i bar, se sono pieni alla sera, magari c'è più movimento, soprattutto il fine settimana, durante il giorno con lo smart working, non lavorano in poche parole, tasse da pagare, c'è i commercianti che chiedono che sarebbe stato opportuno da parte del governo fare un anno zero, un anno bianco, scusate, proprio della serie e non fa pagare le tasse per questo periodo, anche se le tasse sono riferite all'anno precedente, ma di fatto non ci sono stati incassi in questo periodo e quindi diventa molto complicato, parleremo di maltempo perché la notte, c'è stato un grossissimo temporale tra le 20 e 30, le 21, insomma mezz'ora di acqua torrenziale dall'alto vicentino e anche in alcune zone di Vicenza, non ci sono stati danni, non ci sono state situazioni allarmanti, però di certo fa specie, insomma queste acquazioni così violenti e in breve tempo. Riprenderemo anche la questione del bilancio di quello che è successo ieri in Consiglio Comunale, la Giunta rimane in sella, però chiaramente c'è tutto un po' da rivedere anche per quanto riguarda per esempio l'Imo che verrà posticipata, bisogna trovare le risorse e tutto quanto. Quindi questi sono alcuni degli argomenti che tratteremo anche questa sera all'interno del telegiornale di Rete Veneta Vicenza. Ci giungono notizie anche di situazioni di degrado vicentino, vi risultano sanzioni per persone che continuano a bivaccare in centro, vi risulta un campo marzo o marzio che di si voglia ancora fulcro del degrado cittadino? Sì, sono state fatte delle sanzioni per ovviamente quelli che sono un po' degli sorti di accampamenti, di gente che bivacca così nel campo marzo ma anche in altre zone della città che sono quelle un po' diciamo il punto cruciale tipo via Gorizia è una di queste. Sicuramente sono state delle sanzioni, sono state anche ripulite subito le zone che sono state occupate, rimane comunque il problema. Un problema che lo sappiamo a campo marzo è la zona dello spaccio cittadino dove acquistare la droga, dove viene spacciata in maniera costante con gli assembramenti appunto di immigrati soprattutto nordafricani ma non solo, che gironzono in bicicletta, è un classico, insomma giro in bicicletta, arrivano, portano la bustina, la dose, lo scambio denaro dose e poi scappano. Però è una situazione che rimane costante a Vicenza, non demorde possiamo dire. Gabriella, prima di lasciarti andare per raccogliere il resto delle notizie, è una nostra impressione qui dallo studio o è particolarmente calma la piazza in cui sei adesso rispetto a un giorno qualsiasi? Sì, per essere venerdì per esempio, quindi siamo nel fine settimana, ci dovrebbe essere un po' più di movimento, un po' più di gente, è possibile anche che i vicentini siano qualcuno andati in vacanza, sappiamo che però generalmente abbiamo già sentiti le vacanze sono al massimo del fine settimana, quindi qualcuno potrebbe essere andato in qualche casa in montagna piuttosto che al mare. Sicuramente la situazione è molto, molto, molto tranquilla e come ti dicevo già i commercianti dicevano che durante il giorno c'è pochissima gente che gira, pochissima e quindi pochissimi affari. Quindi ringraziamo la nostra Gabriella Basso, tutte queste informazioni sono importantissime perché ci fanno capire sia la cronaca, sia quel che succede, sia il sentire delle persone, dei commercianti, quindi tutta una situazione in divenire, vediamo lo specifico e il medio termine, abbiamo visto, vediamo una piazza desolatamente vuota rispetto a quello che, grazie Gabriella che ci fai vedere, vedete è mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e quaranta di un giorno di un venerdì, insomma come diceva la nostra collega ci si aspetta qualcosa di più, invece vediamo che a parte forse qualche turista, qualche famigliola a spasso, è una Vicenza molto, molto calma, dove il molto calmo insomma rischia di sfociare in qualcosa di un po' più preoccupante, quindi ringraziamo Gabriella Basso che con Cristian Rocche adesso andrà alla ricerca di altre notizie, tutti gli approfondimenti su quello che ci ha detto la collega fino adesso, naturalmente nel Tg Vicenza di questa sera, quindi abbiamo visto anche le novità da Vicenza, poi stasera ne vedremo molte altre, capiremo qualcosa di più, la cronaca che arriverà nel pomeriggio e tutto il resto delle notizie dall'area berica. Adesso noi facciamo una breve pausa, state con noi perché torniamo con il resto della nostra informazione fra pochissimo. Buongiorno, bentornati a Focus Tg, abbiamo sentito le notizie da Padova e da Vicenza, le anticipazioni di quello poi che verrà approfondito durante i nostri telegiornali di questa sera, prima di andare avanti con la nostra informazione, vi leggo quella notizia di cui si era parlato prima della pubblicità. Per la CNA, per la Lombardia, balzo indietro di 20 anni, dimezzate nuove imprese, marzo-maggio, contando Veneto ed Emilia. Le limitazioni del lockdown per la pandemia del coronavirus hanno inciso fortemente sulle iniziative imprenditoriali in Lombardia, Veneto ed Emilia, quindi in questa parte della notizia è coinvolto tutto questo grande settore, che insomma è un po' la locomotiva da sempre d'Italia. Tra marzo e maggio il numero di nuove imprese nelle tre giorni si è dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2019. La Lombardia ha registrato dato più negativo con meno 52%, seguono Emilia-Romagna meno 47% e Veneto meno 40%. Questo emerge dai dati dell'osservatorio Economia e Territorio realizzato da Centro Studi Sintesi di Mestre. Gli effetti del Covid-19 sull'economia dei territori per le CNA di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Secondo questa indagine, qui la faccenda si fa preoccupante, il PIL delle tre regioni farà segnare una contrazione più ampia rispetto alla crisi conseguente al fallimento di Lehman Brothers nel 2008, stimando perdite superiori al 9%, quindi una situazione che potrebbe farsi davvero grave. E quasi in risposta a questa notizia, il Veneto mobilita 120 milioni di euro di fondi europei per finanziare la ripartenza post-Covid. Un pacchetto che prevede indennità, bonus occupazionali per i giovani e contributi per imprese, servizi e welfare. Vediamo il servizio. Una manovra regionale da 120 milioni di euro per far entrare il Veneto nella fase 3 dell'emergenza vissuta negli ultimi mesi, quella della ripartenza economica post-Covid. Battesate il Veneto che cresce, attinge alla programmazione dei fondi europei che verranno messi a disposizione su più fronti. Quello delle imprese, i settori più colpiti sono turismo e cultura, lavoro sul tema del lavoro, quindi di come rafforzare la parte occupazionale. E poi le famiglie. Le famiglie hanno subito, lo dico l'assessore all'istruzione, soprattutto quando si tratta di famiglie numerose, il digital divide, quindi hanno dovuto spendere molto per gli ausili e con queste risorse andiamo anche a ristorare alcune spese e aiutiamo i centri per l'infanzia, i centri estivi per abbattere le rette. Tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi, il turismo, al quale vengono riservati vari interventi di sostegno. La parte più importante sulla quale agiremo è proprio sul tema del costo del lavoro. Molte categorie, molti albergatori e anche il settore extra alberghiero ci chiede di intervenire su questo tema del costo del lavoro. Ecco, qui metteremo a disposizione ben 35 milioni di euro, penso che sia l'unica regione che fa un intervento di questo tipo per abbassare il costo del lavoro. Altrettanto difficile la situazione del comparto cultura che ha pagato un prezzo altissimo alla crisi. Ricordiamo sempre che quando parliamo di cultura parliamo del 5% del PIL regionale e del 6% degli occupati della nostra regione, quindi di un comparto significativo anche da un punto di vista dimensionale. Oltre questo la cultura è un volano formidabile per lo sviluppo di altre attività come il settore del turismo, come il commercio, come lo sviluppo dei nostri centri cittadini. Con la crisi post-covid il Veneto ha perso 65 mila posti di lavoro, un numero che potrebbe crescere ulteriormente in autunno quando scadrà il divieto di licenziamento. 10 milioni di euro sono destinati a un buono per le imprese che assumano dei giovani fino a 35 anni o che traducano il loro contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Torniamo a parlare di mascherine, un tema molto importante in questo periodo in cui si ripete sempre che siamo e saremo artefici del nostro destino per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i vicentini. Se serve, perché non portarla? È precauzione, quindi lo trovo assolutamente giusto. Anche tutto un po' le misure, distanze a misure? Certo, perché non si può sfidare il coronavirus credendosi superiori. Ecco, bisogna farlo. Se per motivi di sicurezza in materia di salute pubblica ritengo che si devono rispettare le disposizioni che vengono emanate. Quindi secondo lei anche se si va avanti anche ad agosto perché se tanto mi dà tanto? Devo fidarmi degli esperti. Bisogna chiedere gli esperti, se ci dicono di fare così bisogna fare così. Stanno creando troppo panico secondo me, quindi bisogna tenere, come diceva mio marito, le giuste distanze, però è giusto ricominciare, anche economicamente soprattutto. Si sperava, però la prudenza per me è meglio che la speranza, quindi io continuo a portare la mascherina e spero che anche tanti altri lo facciano come voi d'altra parte. Vedo che lei lo porta anche all'aperto, che non sarebbe obbligatorio, però si sente più sicura a tenerla? Si sente più sicura sicuramente, cioè non soltanto per protezione verso gli altri, ma anche dagli altri, visto che non tutti siamo così attenti. Le posso dire che ho le palle craclè? Un po' più della mascherina? No, non ne posso più di queste gestioni così improvvisate, cioè non definite. Lei diceva che conveniva dire tenetela sempre? Cioè, appunto, un giorno sì a singhiozzo, un giorno no, cioè sembra veramente che questi soffrano di indigestione di notte, insomma, non se ne può più, non se ne può più. Io sono dell'avviso che una volta deciso, è deciso dal al, punto, basta. Adesso spostiamo il focus su un argomento molto importante, perché abbiamo visto che questa, che è partita come un'emergenza sanitaria, è diventata poi un'emergenza sociale ed economica. E noi, Direte Veneta, stiamo facendo un'inchiesta a puntate proprio sulle nuove povertà. Siamo andati, per esempio, a sentire la mensa dei poveri, dei frati di Bassano. Abbiamo parlato anche con gli operatori del mercato ortofrutticolo, che ci hanno detto che in questo momento la gente cerca la quantità e lascia da parte la qualità, inversamente a quello che succedeva prima. E siamo andati anche a sentire la Caritas, che ci ha detto che sono quasi raddoppiate le spese che vengono distribuite. Distribuzione della spesa il martedì, mercoledì e giovedì mattina a Bassano, in viale delle fosse ex ospedale, dove vi è lo smistamento dei generi alimentari da parte della Caritas, della Diocesi di Vicenza. Quanto il Covid abbia influito sull'opera caritatevole, ce lo spiega la responsabile, Laura Cerantola. Di solito, prima del Covid, avevamo una 230-250 nuclei familiari nel territorio di Bassano. Il dopo, il durante, diciamo, perché siamo stati chiusi, il minimo indispensabile, poi abbiamo riaperto proprio per emergenza, siamo arrivati anche a 400. Un esercito di volontari che tutte le settimane scarica il camion proveniente da Verona e prepara le borse spesa. Ad adesso ci si è proprio un cambiamento anche di utenti e anche di situazioni. Adesso stanno venendo avanti chi finora si è arrangiato con la cassa integrazione, con la mobilità e quant'altro. Adesso magari si trova proprio senza niente. Vedremo i prossimi mesi, noi siamo anche un po' preoccupati per il futuro. Più di adesso, perché oltre ad avere più persone abbiamo anche avuto molte più donazioni, sia alimentari che anche economiche, che ci ha permesso di coprire il di più che dovevamo dare. Però il brutto, secondo noi, la difficoltà sarà a settembre, ci saranno le scuole che inizieranno, i libri da comprare. Vedremo. Molti nuclei familiari che si rivolgono alla Caritas, come questa signora Bassanese. Ogni 15 giorni siamo seguiti con la distribuzione di quello che si può. Purtroppo il mio compagno è disoccupato e io sono un invalida al 75%. Questa era la situazione, in questo caso di Bassano, ma la nostra inchiesta proseguirà per approfondire ancora il tema delle cosiddette nuove povertà e della crisi economica e sociale che è scaturita e scaturirà, come abbiamo sentito, di sicuro in modo più prepotente dopo l'estate. Cambiamo decisamente argomento, anche se è un argomento legato a filo doppio con l'emergenza e parliamo di elezioni perché è stato fissato il cosiddetto election day, 20 e 21 settembre si va al voto per la regione e per moltissimi comuni in Veneto. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore Roberto Marcato. Il presidente Zaia aveva chiesto che ci potessero essere le elezioni a giugno o a luglio ci hanno detto che c'era il covid e quindi hanno deciso che a settembre non ci sarà più il covid evidentemente perché se si va al 20 e 21 e ci hanno anche spiegato che non si poteva andare a giugno o a luglio perché bisognava dare la stessa possibilità, la stessa opportunità a tutti i candidati e quindi dicevano in un lasso di tempo breve avrebbero avuto maggiori chance gli uscenti perché già conosciuti. E allora se è vero questo mi chiedo per quale motivo il governo abbia firmato solo stanotte l'indizione delle elezioni il 20 e il 21. Se davvero il tema del tempo a disposizione era il tema avrebbero dovuto firmarlo molto prima. quindi anche questa è un'incongruenza che francamente non capiamo ma noi siamo pronti da sempre non è un problema. Chiudiamo la pagina politica andiamo a vedere le condizioni di Alex Zanardi l'atleta. Ancora un'operazione per Alex. L'atleta sappiamo che è in cura al policlinico Lescote di Siena i medici hanno avviato la procedura di risveglio per il campione che si trova in coma farmacologico dal 19 giugno, giorno dell'incidente nelle campagne toscane. In sostanza in queste ore verranno ridotti i farmaci e lentamente si valuteranno le reazioni di Zanardi che rimane in prognosi riservata. Le sue condizioni, lo ricordiamo, sono molto gravi. Per capire se ci saranno o meno conseguenze neurologiche però serviranno alcuni giorni, almeno tre secondo l'equipe medica. Ulteriori informazioni verranno diffuse nella prossima settimana. Questo era lo stato di salute di Zanardi che tiene in appressione moltissime persone, un atleta molto amato anche per la sua filosofia di vita. Noi prima di chiudere vi facciamo vedere un servizio della redazione vicentina su V-Off, ovvero l'esterno di Vicenza Oro che quest'anno si terrà comunque. Torna V-Off, il fuorifiera di Vicenza Oro. Dall'11 al 14 settembre arte e cultura protagoniste di un evento che coinvolgerà il cuore della città. Parola d'ordine, Golden Way. Verrà tracciata una nuova via d'oro che simboleggerà la volontà della società e dell'economia, segnate dalla crisi post-Covid, di ripartire con energia e forza. Il V-Off sarà la cornice perfetta per valorizzare tutto quello che Vicenza e l'italianità ha da offrire per tutti i visitatori che da sempre raggiungono Vicenza per il business della gioielleria e di tutta la sua filiera. Questo è il primo grande evento del dopo lockdown, ovviamente ci sarà grande attenzione per le distanze e per tutte quelle che sono le norme anti-Covid. Dopo un recente passato di sofferenza, questo è un modo per ricominciare a guardare il futuro nel segno di arte e cultura, a cominciare dalla locandina del V-Off. Abbiamo dato un taglio quest'anno tutto made in Italy, quindi siamo passati da lì, abbiamo mantenuto un po' il suo stile futurista, cubista, siamo passati a Matteo Cibic, che è un designer del luxury, Vicentino, che ci farà una mostra bellissima del suo Paradiso Dreams, sono queste statue di ceramica con i profili dorati, quindi al Museo d'Oro potremo ammirarle a partire da settembre. E poi ci sarà una mostra molto importante di opere prime della Marcolin e di Riccardo Guasco. Questo era l'ultimo servizio del Focus TG di oggi, abbiamo visto l'informazione, tutte le notizie dal Veneto, questa sera nei nostri tre giornali le approfondiremo tutte, poi lasceremo spazio al direttore Luigi Baccialli, che ricordiamo torna domani sera anche con una puntata speciale di Focus per i mille giorni di autonomia negata al Veneto, ci sarà anche un'intervista in esclusiva al Presidente della Regione Luca Zaia. Per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona giornata.